Poi si parla tanto in Parlamento di norme che tutelino le donne per dare il diritto alla donna di magari anche lasciare il proprio compagno, fidanzato, marito, senza avere poi il dubbio che magari la persona che stai lasciando possa tornare indietro e ucciderti. Non è possibile, non è possibile. Io sono Maria, un modo per non dimenticare Maria Tino e tante altre donne a cui è toccata la stessa sorte e ad altre che sono invece sopravvissute alla violenza degli uomini. E' questo il senso ed il messaggio forte che la famiglia di Maria Tino, uccisa Dragoni dal suo fidanzato lo scorso 13 luglio 2017 ed ora in carcere, vuole inviare alla comunità e ai giovani in particolare affinché la cultura della sopraffazione e della violenza sulla donna finisca prima possibile. Ma il messaggio è anche diretto al governo centrale per leggi più severe e pene certe per debellare il cancro di questo reato sempre più diffuso. L'appuntamento dunque per venerdì 13 luglio prossimo a Dragoni, nell'Alto Casertano, per gridare no ad ogni forma di violenza. Il ricordo di Maria Tino sarà celebrata una santa messa e a seguire una fiaccolata che parte dalla chiesa dell'Annunziata per poi raggiungere la panchina della morte, nel cuore del centro storico dove si consumò uno dei più efferrati delitti e che ha più profondamente scosso il tranquillo comune dell'Alto Casertano.